Un nuovo ponte ciclopedonale di 86 metri sul torrente Chiavenna sarà realizzato tra Cadeo e Rovelleto, parallelo a quello stradale della Via Emilia. Il costo complessivo è di circa 300 mila euro, finanziato per metà dalla provincia grazie ai soldi del tesoretto nucleare del 2012. La restante parte sarà messa dall'amministrazione comunale di Cadeo. La provincia metterà anche a disposizione i suoi tecnici per le fasi progettuali. L'iter dovrebbe partire nel giro di poche settimane. Verrà collocato all'altezza del ponte del Chiavenna per permettere ai cittadini di non arrischiarsi nell'attraversare la Via Emilia o percorrerla con il pericolo lì, anche un tratto in curva, per cui riteniamo importante realizzare questa opera. Sono 150 mila euro che mette la provincia. Siete preoccupati del fatto che tra qualche mese magari non saprete con chi rapportarvi per questo tipo di lavori e di finanziamenti? Sì, siamo molto preoccupati. Se la provincia sparirà saremo davvero in grossa difficoltà perché è stato per noi un porto di riferimento. Il presidente della provincia, Massimo Trespidi, ha sottolineato l'impegno della sua amministrazione ascoltando le richieste dei comuni e ricordando il recente contributo dato al comune di Bobbio.